Ciao a tutti ragazzi, siamo qui in questo nuovo video di Francesco con il mio amico Valerio con il mio motocross C'hanno 5 anni, vabbè, non me ne prego Che marca è? LM Motor Vic Italy Ecco la marmitta E oggi c'entra il mio amico Valerio e ci andremo qua sotto Ok, ci si mette sempre l'accento, ok, cominciamo Eccoci tornati con il motocross acceso qui sotto in collina Ok Aspetta Valerio, aspetta Ok, aspettate un attimo Ci siamo tornati con il nostro Valle Crucciolo Allora noi ci posizioniamo qui e vediamo tutta la merda che fa Valerio, cammina Che pace Ok, siamo lontanissimi Ok, lasciamo lasciare ragazzi Spero che vi sia piaciuto questo video Ho mettato un pollice in su A 10 like Vi faremo il prossimo video E iscrivervi, mi raccomando Ciao